L'ex presidente della regione Abruzzo e oggi senatore Luciano D'Alfonso ha spiegato questa mattina in una follata conferenza stampa i motivi che lo hanno spinto a chiedere un passo indietro al presidente della fondazione Pescara Abruzzo Nicola Mattoscio che pochi giorni fa era stato anche ascoltato dalla commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario. Ho posto delle questioni riguardanti per esempio l'incomprensibilità di un comma di un articolo della struttura statutaria che tende a comprimere l'espressione delle libertà sociali della nostra provincia. Quando si dice che la fondazione deve verificare la rappresentatività dei soggetti deputati a designare è una forzosità che non va d'accordo con lo spirito della democrazia, dell'autonomia, dell'indipendenza che il legislatore ha voluto configurare ma anche la giustizia costituzionale nei rapporti tra fondazione e organizzazioni sociali. Quello è uno. Due, dobbiamo fare in modo che un articolo dello statuto renda implacabile l'incarico a tempo. Dopo due mandati non c'è possibilità di fare curve o rotatorie per tornare ad avere ruoli, altrimenti c'è il rischio di quello che diceva San Benedetto da Norcia, San Giovanni da Capestrano, Bernardino da Siena, San Giacomo della Marca, che la persona fisica coincida con la persona giuridica e viene meno il valore dei progetti, il valore delle istanze, delle ambizioni sociali, di quelli che sono i corpi e i mondi vitali della comunità. È indubbio che il patrimonio della fondazione Pescara Abruzzo oggi faccia gola a tanti. Non so che cosa c'entri la gola col patrimonio della fondazione. Quello che è certo che fa interesse è la capacità di iniziativa della fondazione che in un primo tempo è stata applaudita, in un secondo tempo è stata riconosciuta con consenso. Io vorrei che il terzo tempo della fondazione tenga conto anche di quello che è accaduto con la pandemia. A quei 6.000 poveri nuovi che operano come progetto di vita a Pescara senza nulla, oltre alle misure messe in campo dal comune di Pescara e con intermittenza anche dal governo della Repubblica. È immaginabile che si faccia anche qui straordinariamente quello che la fondazione Cariplo ha messo in campo a Milano, fatte le debite e proporzioni. Dire questo non significa fare attacchi personali. Dire questo significa riconoscere un dramma che riguarda 6.000 persone nuove che grazie alla mascherina non si vergognano di ricevere gli aiuti alla Caritas. C'è un mondo che vanno da coloro i quali hanno perso l'integrità della famiglia, a coloro i quali hanno perso l'integrità del reddito da lavoro, che non ha più nulla. A questi, oltre che la generosità di alcune figure imprenditoriali, oltre che la capacità di risposta limitata del comune, è possibile implementare anche un'altra capacità di risposta, facendo in modo che una percentuale dei redditi pari al 10% della fondazione prenda come bersaglio le sacche di dolore sociale di questa città. questa domanda non è irriguardosa. Io ne ho parlato con mio figlio, mi ha detto che si capisce.